Ciao Sì Pronto? Scusi, possiamo... Allora sul fondo ha cambiato un po' la cosa e... Sì, piccole cose, però sono anche più tecniche però va bene il problema è al fondo Sì Il problema principale è presentato al fondo C'è successo con Irmar una volta Ma guarda, io sono l'agente del ragazzo Non lo so, sinceramente Peccato, perché è una bella cosa Ci potrebbe essere qualche possibilità per giugno, magari? Speriamo Vi date l'appuntamento per giugno, magari? Guarda, ti dico, il ragazzo vuole la Lazio Noi vogliamo la Lazio, dunque se non è adesso speriamo sia... Ormai è sicuro proprio che non ci sono più i tempi, vero? Ormai è ufficiale proprio che non ci sono più i tempi tecnici per poterlo fare No, mi spiace ragazzi Perfetto, grazie, arrivederci